Un tagliando per così dire necessario per fare un po' di chiarezza sulla nuova procedura della liquidazione giudiziale e sul concordato ex articolo 240 del codice della crisi d'impresa dell'insolvenza interessati da più modifiche nel passaggio dalla legge fallimentare allo stesso codice. Ecco perché l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce e la fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce hanno deciso di organizzare un convegno ad hoc per fare il punto della situazione. Ritenevamo che innanzitutto fosse opportuno trattare la tematica della liquidazione giudiziale e del concordato nella liquidazione giudiziale in quanto con la riforma proprio questi due istituti sono stati interessati da notevoli modifiche. La nostra volontà, la volontà come consiglio è stata quella di unire ai fini della formazione l'università con le figure professionali che studiano e lavorano nel campo della liquidazione giudiziale. La prima sessione di lavoro intitolata la liquidazione giudiziale è stata coordinata dall'avvocato Maurizio Orlando del Foro di Milano. La crisi dell'impresa è uno degli argomenti del momento, gli operatori devono essere pronti ad affrontarla con i nuovi strumenti del codice della crisi che il legislatore ha introdotto l'anno scorso. Noi siamo qua per parlare in particolare del concordato nella liquidazione giudiziale che è un modo di risoluzione della crisi già conclamata attraverso l'intervento di un investitore esterno. Nella seconda sezione il dottor Giulio Manetti, amministratore delegato di FiniEurope Investments Opportunities SPA ha affrontato invece le problematiche relative al concordato, anche quale soluzione alternativa alla liquidazione concursuale. Il ruolo del terzo assuntore è un ruolo di un soggetto che appunto si propone analizzando situazioni di crisi di impresa, di trovare delle soluzioni che possano determinare la chiusura della stessa crisi in tempi direi sostanzialmente immediati rispetto all'intervento dando nuova finanza che serva appunto a determinare una liquidazione ordinata di quello che è il passivo concordatario, consentendo poi nell'immediato una continuazione dell'azienda ed evitando che possa giocare su dei piani pluriannali. Il binomio liquidazione concordato potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un percorso per regolare l'insolvenza. In altre parole, se la liquidazione regola certamente l'insolvenza ma lo fa in una prospettiva liquidatoria, il concordato potrebbe rappresentare un percorso virtuoso per regolare l'insolvenza in una prospettiva non liquidatoria, ristrutturando così i debiti ad un costo più basso di quello richiesto nelle procedure tipicamente a carattere conservativo. Il nostro obiettivo è quello di formare sempre di più gli iscritti all'ordine perché gli stessi possano dare il loro contributo alle aziende, perché laddove non si riesce ad arrivare in tempo e quindi a prevenire la crisi e si arriva alla liquidazione giudiziale, vi sono altrettanto anche in questa fase degli strumenti importanti come appunto il concordato nella liquidazione che permette appunto di rilanciare l'azienda e di salvaguardarla. Questa nell'interesse sia di assicurare un migliore trattamento per quelli che sono i creditori, sia dall'altra parte per salvaguardare i posti di lavoro e comunque l'entità aziendale nel suo complesso. Grazie mille, grazie mille.